Un'altra iniziativa benefica organizzata dall'Associazione Kenzio Bellotti, braccio operativo della Paffoni, il prossimo sabato in programma prima, un torneo quadrangolare alla Palabagnela con ingresso a offerta in beneficenza, poi la cena di fine stagione, Presidente. Esatto, diciamo che l'Associazione Kenzio Bellotti è sempre stata presente in quanto riguarda il sociale, infatti negli anni scorsi abbiamo dato 5.000 euro per il disastro che è successo a Villa Taranto, 1.000 euro per l'oratorio e quest'anno siamo impegnati con il sociale, con l'omenia social netto. Esatto. Quindi ci sarà prima la possibilità di divertirsi a Palabagnela con quattro squadre, una di giornalisti, una di sponsor della Paffoni, un'altra di allenatori del settore giovanile e un'altra formata da amministratori e da rappresentanti di omenia social network e poi sotto la tavola. Ovviamente ingresso gratuito, speriamo che gli omenesi ci gratifichino con la loro presenza, anche perché il nostro obiettivo è quello di dare il più possibile per quello che è il sociale a Omenia. Ingresso gratuito, 2 euro, offerta base. Gratuito per modo di dire, insomma. Beh diciamo che ovviamente non sono i 2 euro ma è quello che uno si sente di dare perché è tutto a scopo benefico, sicuramente non per il lucro nostro.